Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per portarvi per la prima volta in Australia. In questo caso, questa storia, me la chiedete da davvero un'infinità di tempo, quindi oggi sono qui per parlarvi di Ivan Milat, definito anche l'assassino dei saccopelisti. Come al solito, andiamo con ordine. Ivan Milat nasce il 27 dicembre del 1944 a Guildford, nella parte occidentale di Sydney, in Australia. Suo padre, Steven Marco Milat, detto Stephen, è un uomo croato, mentre sua madre, Margaret Elizabeth Piddleston, è australiana. Ivan è il quinto di 14 fratelli. È chiaro che i due genitori non riescono assolutamente a prendersi cura seriamente di ben 14 figli, quindi fin da piccoli fanno un po' quello che vogliono. Ivan è un bambino intelligente, tuttavia ha una vita familiare davvero difficile. Entrambi i suoi genitori sono molto severi, in particolare il suo padre, che è anche molto violento. È solito picchiare Ivan con uno stivale sulla schiena. La famiglia vive in una zona rurale dell'Australia, ma in realtà si sono trasferiti molto spesso in tutto il paese, ovunque il padre potesse trovare lavoro. Sono arrivati anche a vivere sotto una tettoia. Alla fine la famiglia si trasferisce in una casa con tre camere da letto vicino Liverpool, nella periferia di Sydney. Ovviamente per non farci mancare nulla, la famiglia Milat è povera e con 14 bocche da sfamare è necessario darsi da fare. Il padre di Ivan, Stephen, lavora a turni di 10 ore come operaio portuale, rientrando a casa a tarda notte. Per riuscire a dare da mangiare a tutti, la famiglia gestisce anche un orto, che principalmente viene curato dai bambini. Avendo questa situazione in casa, Ivan mette la scuola e lo studio in secondo piano, inizia a saltare le lezioni e infine smette del tutto di andare a scuola all'età di 14 anni. È in questo periodo che Ivan inizia a sviluppare un'ossessione per le armi. Le trova, le modifica, poi allestisce dei poligoni di tiro per provarle. Questo comportamento in realtà non è strano, anzi è il tipico comportamento di un ragazzo che cresce nell'Australia rurale, ma coloro che lo conoscono sostengono che il suo hobby sia decisamente andato oltre. Infatti Ivan è letteralmente ossessionato dalle armi. Ovviamente le armi hanno un loro costo e Ivan non ha soldi, quindi inizia a commettere piccoli crimini. Il rompe nelle case per rubare soldi oggetti di valore da rivendere, ruba i soldi del latte. In realtà, ad essere onesti, tutti i fratelli Milat prima o poi finiscono nei guai. Non è affatto raro che la polizia si presenti a casa per interrogarli su quel furtarello o quell'altro. La polizia sostiene che i fratelli Milat non si arrendono mai e si coprono sempre a vicenda. Ivan in particolare dimostra un comportamento antisociale dall'età di 13 anni e quel tempo anche i suoi fratelli iniziano a temerlo. Perché Ivan è strano, spesso a scatti d'ira ed è violento. A 17 anni si ritrova in un centro di detenzione minorile per furto e due anni dopo viene coinvolto in un'irruzione in un negozio. Poi nel 1964 viene condannato a 18 mesi per evasione e dopo un mese dal rilascio viene nuovamente arrestato dato che è alla guida di un'autorubata. Viene condannato due anni ai lavori forzati. Nel settembre del 1967 all'età di 23 anni viene condannato a tre anni per furto. È chiaro che ad Ivan di comportarsi bene e seguire la legge non frega un piffero, non gli importa di finire in prigione né di avere precedenti penali. La maggior parte delle persone che lui incontrano in realtà lo considerano amichevole, estroverso e attraente. E in effetti Ivan è un bel ragazzo, è fisicamente attraente ed è noto che avrà delle relazioni con almeno due delle mogli di uno dei suoi fratelli. Quando viene rilasciato dal carcere trova un lavoro come operaio stradale per il dipartimento delle strade principali. Quindi un lavoro legittimo è una retribuzione legittima. Nel 1969 una tragedia colpisce la famiglia quando la sorella minore di Ivan, Margaret, viene investita da un'auto vicino a casa. Ivan è uno dei primi a correre sulla scena. Anche se ha in un certo senso un aspetto da duro ed è noto che sia un violento, ha un debole per la sua famiglia. E ahimè Ivan questa perdita la prende malissimo. Margaret muore in ospedale e dentro un mese dalla sua morte, nel 1971, Ivan viene accusato di violenza intima. Inizia a bere abbondantemente e a fumare. C'è assolutamente da sottolineare che siamo negli anni 70, quindi fare l'autostop è molto comune. Le persone molto spesso si spostano solo in autostop, soprattutto se si parla di giovani viaggiatori. Ivan individua due donne che fanno l'autostop lungo un lato della Hume Highway nel weekend di Pasqua del 1971. L'uomo quindi decide di andare incontro alle due donne con un grande sorriso stampato in faccia, col fine di offrire loro un passaggio che accettano. Tuttavia al posto di portarle più in basso, lungo l'autostrada, verso la loro destinazione, le porta in un campo appartato dove ordina ad entrambe di scendere dal suo furgone, dietro la minaccia di un coltello. Dice alle donne che se una delle due non si sarebbe prestata a fare cose intime con lui, semplicemente le avrebbe uccise entrambe. Così una delle due donne si fa avanti e sorprendentemente Ivan rispetta la sua parte di accordo, lasciandole andare. Ovviamente queste due donne si rivolgono immediatamente alla polizia, dove forniscono una descrizione di Ivan e della sua macchina. In attesa del processo, l'uomo viene coinvolto in una serie di rapine con alcuni dei suoi fratelli, prima di fingere il suo suicidio. Poi ecco che arriva un'udienza di rinvio, quindi Ivan fugge in Nuova Zelanda, dove rimane fino al 1974. Al suo ritorno viene nuovamente arrestato e il caso finalmente va a processo. Il punto è che Ivan viene assolto quando una delle due vittime cambia la sua storia, forse proprio per paura di Ivan. Ad ogni modo, l'uomo riesce a farla franca ed ora ha raggiunto una consapevolezza. Sa che è davvero una pessima idea lasciare andare le sue vittime. Successivamente Ivan smette di bere e di fumare, lavora come camionista e torna a vivere con i suoi genitori. La sua ossessione per le armi, ovviamente, continua. Ivan persiste a modificare e a provare diverse pistole. Nel 1975, all'età di 31 anni, conosce una ragazza di nome Karen, incinta del bambino di un altro uomo. Nonostante la situazione, Ivan e Karen si mettono insieme. Vanno a vivere insieme e infine si sposano con Ivan, che cresce il figlio di Karen, come se fosse suo. Il matrimonio, però, dura poco. Ivan ben presto diventa violento con sua moglie e quando non è a casa, a picchiarla, è fuori a lavorare. Il giorno di San Valentino del 1987, mentre Ivan è via per lavoro, Karen fa i bagagli con l'aiuto di sua madre e fugge prendendo tutti i mobili con sé. A questo punto, Ivan si ritrova di nuovo single. Ed è qui che inizia a commettere gli omicidi, ahimè. Le prime due vittime di Ivan sono Deborah Everest e James Gibson, entrambi di 19 anni. Sono australiani e si frequentano da tempo. Deborah ha i capelli lunghi e scuri, così come James, che ha i capelli che gli arrivano fino a metà schiena. I due adorano viaggiare per l'Australia e per spostarsi fanno solo l'autostop. Probabilmente si sentono al sicuro, dato che stanno viaggiando insieme. La coppia scompare alla fine del dicembre 1989 e durante uno dei loro viaggi si stavano dirigendo verso la città di Olbury per un festival chiamato Confest. Il problema è che non arriveranno mai ad Olbury e non parteciperanno mai al festival. È facile immaginare Ivan che si avvicina ai due giovani autostoppisti e offre loro un passaggio per poi condurli in un posto appartato e ucciderli. Sia la famiglia di James che quella di Deborah presentano una denuncia di scomparsa nel giro di poche settimane. La macchina fotografica di James Gibson viene ritrovata il 31 dicembre del 1989 a nord di Sydney. Il 3 marzo del 1990 il suo zaino viene ritrovato lungo la Goldstein Gorg, una valle situata nel parco regionale della Berawa Valley a Sydney in Australia. A causa della posizione di questi effetti personali, la polizia ovviamente cerca la coppia in quella zona ma non trova nulla. Il 15 gennaio del 1990 Ivan dà un passaggio ad un autostoppista britannico di nome Paul Onions a sud di Sydney. L'uomo è in cerca di lavoro. Ebbene, Paul è sopravvissuto quindi può raccontare la sua storia. Inizialmente descrive Ivan come una persona molto amichevole, calorosa e accogliente dunque non ha esitato a farsi dare un passaggio da lui che si è presentato con il nome di Bill. Ma, mentre è alla guida sull'autostrada, il comportamento di Ivan cambia radicalmente. Inizia ad arrabbiarsi senza motivo, ad inveire e a delirare facendo osservazioni razziste. Insomma, Ivan sembra una persona completamente diversa da quella che ha offerto un passaggio a Paul quello stesso giorno, poco tempo prima. Improvvisamente Ivan si ferma sul ciglio della strada dicendo a Paul che avrebbe preso dei nastri per mettere su un po' di musica. Paul a quel punto capisce forte e chiaro che c'è qualcosa che non va, deve andarsene. Ivan nel frattempo tira fuori una pistola e una corda da sotto il sedile e ordina a Paul di allacciarsi la cintura di sicurezza. In quel momento, Paul prende una decisione e in una frazione di secondo si lancia giù dalla macchina di Ivan e corre lungo l'autostrada per salvarsi la vita, lasciando dietro di sé lo zaino con tutti i suoi averi, compreso il suo passaporto. Paul, mentre scappa, è abbastanza furbo da correre a zigzag, tanto che Ivan prova a sparargli per due volte senza mai ferirlo. Vorrei sottolineare che tutto ciò è accaduto in pieno giorno. Paul, dopo questa terribile esperienza, riesce ad ottenere un altro passaggio per andare diretto alla stazione di polizia, dove denuncia immediatamente questo incidente. E indovinate un po', anche se si tratta di un reato grave, la polizia non agisce immediatamente in base alla denuncia che rimane in un cassetto, dimenticata per anni. Il che permette ad Ivan di continuare ad uccidere persone di qua e di là. Paul, intanto, torna nel Regno Unito sano e salvo. Arriviamo a gennaio del 1991, quando Ivan trova un'ennesima vittima. Si chiama Simona Schmidl. È di Ratisbona, in Germania, e decide di fare l'autostop da sola a Melbourne, anche se i suoi amici le consigliano di non farlo da sola e soprattutto a Melbourne. Simona dice ad una sua amica che il libro turistico che ha letto sostiene che è sicuro fare l'autostop perché tutti gli australiani sono cordiali e amichevoli. Simona, inoltre, aggiunge che sarebbe andato tutto bene perché, tra l'altro, con lei ha sempre un coltello, proprio per difendersi da qualche malintenzionato. Quindi, Simona fa l'autostop per arrivare all'aeroporto di Melbourne, dove sarebbe arrivata in aereo da Monaco sua madre. Hanno in programma di fare un tour di sei settimane in camper a Victoria, prima di tornare a casa insieme in Germania. È probabile che Simona abbia fatto l'autostop e abbia incontrato Ivan, che di nuovo, probabilmente, le ha promesso un passaggio, per poi condurla lungo una strada boscosa e appartata. Qui, Ivan lega Simona e la pugnala con così tanta forza da reciderle il midollo spinale. Ma non è finita qui, perché Ivan la pugnala altre sei volte perforandole il cuore e i polmoni e lasciando il corpo a faccia in giù con le mani incrociate. Ivan, a questo punto, scava una fossa poco profonda e copre il corpo di Simona con foglie, felci, ramoscelli e infine con due rami che formano una X. Intanto la madre di Simona arriva all'aeroporto di Melbourne il 24 gennaio e aspetta ore ed ore sua figlia, che però non arriva. Alla fine la donna si reca allo sportello informazioni dell'aeroporto, dove successivamente viene condotta in questura per denunciare la scomparsa di sua figlia Simona. Nessuno sa dove sia, nessuno ha ricevuto sue notizie. È così che anche Simona sbanisce nel nulla. La famiglia tiene numerose conferenze stampa per spargere la notizia continuando a cercare Simona in Australia senza successo. Passa quasi un anno dalla scomparsa di Simona, quando altri due ragazzi tedeschi scompaiono. Anja Habschit di 20 anni e Gabor Noikebawa di 21 anni scompaiono il 26 dicembre del 1991, dopo aver detto ai loro genitori di essere intenzionati a lasciare l'Australia per tornare a casa. Vengono visti l'ultima volta il 26 dicembre del 1991 e sfortunatamente hanno incontrato Ivan Milat, che gli ha offerto un passaggio per poi portarli in una foresta. Gabor è stato strangolato e colpito da numerose coltellate al petto. Alla fine quel coltello Ivan glielo conficca nella zona spinale, recidendogli completamente la colonna vertebrale. Non è chiaro come sia morta Anja. La sua testa, in ogni caso, non è più attaccata al suo corpo. Passa poco più di un anno, arriviamo al 18 aprile del 1992. Caroline Clarke e Joan Walters, entrambe 22 anni, sono una coppia di ragazze britanniche in giro per l'Australia. La coppia si è incontrata in un ostello a King Cross, a Sydney, e hanno condiviso una stanza. Da quel momento hanno deciso di proseguire il loro viaggio insieme, anche per correre meno rischi. Dunque, le due ragazze fanno più volte l'autostop. E va tutto benissimo. Fino a quando, mentre si stanno dirigendo verso sud, e stanno facendo l'autostop a New South Wheels, incontrano Ivan. L'uomo, come da copione, offre loro un passaggio. Poi le porta verso la foresta e toglie la vita ad entrambe. Infine, le seppellisce nel bosco. Caroline e Joan, ovviamente, non rispondono più ai loro cari, che quindi si allarmano e allertano la polizia in Regno Unito e in Australia. Le due ragazze, a quanto pare, sono scomparse. A questo punto è chiaro che ci sia un assassino a piede libero. Qualcuno che prende di mira turisti e autostoppisti. La polizia tiene d'occhio la famiglia di Ivan Milat, ma senza prove o informazioni solide su ciò che era accaduto a tutti quegli autostoppisti scomparsi, non potevano davvero fare nulla. Arriviamo al settembre del 1992, sono passati circa cinque mesi dalla scomparsa delle ultime vittime, ossia Caroline e Joan. Un giorno un gruppo di escursionisti si imbatte in un corpo in decomposizione nella Belangolo State Forest, che si trova a circa tre chilometri a ovest della Hume Highway. Questo ritrovamento dà inizio all'ascesa del peggior serial australiano, ma andiamo con ordine. Il gruppo si riunisce una volta al mese per fare un'escursione attraverso i sentieri della bellissima foresta di Magnale di Belangolo. Due membri raggiungono l'area conosciuta col nome del boia, perché c'è un enorme dislivello in una gola boscosa molto profonda. Sentono di colpo un odore disgustoso, pensano sia una carcassa di animale in decomposizione. Però fortunatamente decidono di indagare ulteriormente, in quanto l'odore è così tanto opprimente. Scoprono quindi un cumulo di detriti lungo circa due metri e alto 61 centimetri. Quella sembra una tomba poco profonda, e quando gli escursionisti si avvicinano per vedere meglio, notano quello che sembra un osso e una ciocca di capelli sporgere dalla terra. All'inizio pensano che si tratti di ossa e peli di animali, poi però notano anche un lembo di una maglietta nera. Quelli non sono resti di animali, quelli sono resti umani. Tra il mucchio di foglie, bastoncini e altri detriti trovano anche una scarpa. Il gruppo a questo punto capisce che non ha altra scelta. Qualcuno deve chiamare la polizia, quindi segnano la posizione del corpo sulla mappa e tornano indietro verso le loro auto in modo da recuperare i loro telefoni. Quando raggiungono l'area di ricezione dei telefoni, il gruppo chiama la polizia per riferire di aver trovato un cadavere nel bel mezzo della foresta di Belanglo. E proprio mentre il sole inizia a tramontare, la polizia arriva sul posto con delle torce dirigendosi verso la discesa del Boia, dove gli escursionisti avevano trovato il corpo della viaggiatrice britannica Joanne Walters. Il corpo è così tanto decomposto che inizialmente la polizia non è in grado di determinare la sua identità. Attraverso l'indagine e la ricerca nell'area circostante dove hanno trovato questo primo corpo trovano un altro cadavere a circa 30 metri di distanza. È parzialmente coperto da un tronco, ma sono ben visibili una scarpa e la parte inferiore di una gamba, sotto un cumulo di foglie e rami. Naturalmente c'erano parecchi turisti che erano stati denunciati come scomparsi nella stessa zona dalle loro famiglie. Quindi, mentre la polizia lavora duramente per identificare quei due corpi che sono stati scoperti, molte delle loro famiglie, dopo aver sentito la notizia, chiamano senza sosta, solo per cercare di capire se quei corpi potrebbero appartenere ai loro cari. Nel tardo pomeriggio di domenica 20 settembre, la polizia conferma, grazie alle impronte dentali, che i corpi sono quelli di Carolyn Clark e Joanne Walters. I corpi erano in condizioni terribili. Joanne Walters era stata pugnalata brutalmente al cuore e ai polmoni. Inoltre aveva un'ennesima ferita così profonda da averle tagliato la spina dorsale. Aveva ancora addosso i suoi gioielli un paio di blue jeans e delle scarpe nere. La cerniera dei jeans era slacciata, ma il bottone era ancora attaccato. Sfortunatamente il suo corpo era così gravemente decomposto che la polizia non era in grado di determinare se fosse stata aggredita intimamente o meno. Dall'autopsia però risulta che è morta per strangolamento. Sembrava che il corpo di Carolyn fosse stato persino usato per il tiro al bersaglio. Quattro proiettili trovati all'interno del suo cranio vengono ovviamente conservati per l'analisi forense e gli investigatori sono fiduciosi del fatto che sarebbero riusciti a rintracciare l'arma che ha esploso. Quei proiettili. Le donne erano state entrambe brutalizzate prima di essere uccise. Erano state ripetutamente accoltellate, anche al midollo spinale, in modo da paralizzarle. Ciò che è davvero interessante per gli investigatori è il modo in cui le ragazze sono state uccise, ossia in modo davvero molto diverso. L'uccisione di Carolyn sembrava essere molto fredda e calcolata. Non sembrava esserci una motivazione intima, bensì l'aggressore voleva solo brutalizzare il suo corpo. Il tutto si era concluso con un'esecuzione. Tuttavia, il corpo di Joanne era stato trattato in modo molto diverso. Aveva i jeans slacciati, la maglietta e il reggisiera ne erano alzati e quindi la polizia ipotizza che l'uccisione, in questo caso, possa essere di natura intima. Il primo investigatore del caso ritiene che ci siano due assassini che operano. Uno probabilmente è più vecchio e dominante, mentre l'altro, sebbene ugualmente sadico, tende ad essere sottomesso. Suggerisce che potrebbero essere dei fratelli che condividono un interesse comune per le armi e la caccia. Inoltre, probabilmente, sono coinvolti in altri crimini intimi, sia insieme che separatamente. Sulla scena del crimine c'è un camino in mattoni, che è stato costruito vicino ai corpi e sulla scena sono stati recuperati anche mozzicone di sigaretta e bossoli usati calibro 22. Sono presenti un sacco di prove, quindi pareva che chiunque avesse commesso l'omicidio avesse trascorso un bel po' di tempo in quell'area, sia prima che dopo. La polizia perquisisce anche l'area circostante, ma non trova altri corpi, quindi inizia a pensare che quel duplice omicidio sia frutto di un incidente casuale e non di un serial. Questa situazione però io la vedo ambigua. Insomma, avranno anche trovato pochi corpi, ma sanno che molti turisti sono scomparsi proprio in quella zona. Nonostante le tante prove da far analizzare alla scientifica, la polizia non è in grado di individuare alcun sospettato, anche se continuano a sostenere che l'assassino, a circa 30 anni, ha una storia di aggressioni alle spalle, ha familiarità con la zona ed è motivato dal piacere di infliggere dolore. La polizia segue diverse piste, che però si rivelano vicoli ciechi. Poi, nell'ottobre del 1993, un anno dopo, vengono ritrovati altri due corpi. Bisogna sottolinearlo, la ricerca ufficiale è ormai stata annullata da molti mesi e l'indagine è praticamente inesistente. Gli inquirenti non sanno proprio che pesci pigliare, non sanno dove sbattere la testa, insomma. Tuttavia, un uomo del posto, di nome Bruce Pryor, non riesce proprio a lasciar perdere questo caso. Ci sono altri corpi nella foresta e lui se lo sente. L'uomo, quindi, si avvia alla foresta di Belangolo, non è sicuro di dove deve andare, ma tiene gli occhi aperti in attesa di notare qualcosa di strano. Ben presto si trova davanti un piccolo caminetto costruito con rocce e cespugli, simile al cammino di mattoni vicino a cui sono stati ritrovati i primi due corpi. Così inizia a camminare per la zona fino a quando si imbatte in un grosso osso dalle dimensioni della sua coscia. Bruce non sa se quell'osso appartiene ad un animale o ad un uomo, anche perché in quella foresta ci sono parecchi animali selvatici. L'uomo, quindi, posa l'osso e inizia a cercare altre ossa, quando finalmente nota qualcosa di bianco tra alcune erbacce. Quello è un teschio umano. Bruce, quindi, lo raccoglie, lo avvolge in un panno e si dirige verso l'ingresso della foresta. Quando ne esce, chiede ad un gruppo di persone un telefono, quindi chiama la polizia per riferire di aver trovato un cadavere. La polizia, quando arriva sul posto, scopre non uno, ma due corpi. Sono i resti gravemente decomposti di James Gibson e Deborah Everest. Vengono ritrovati a meno di un chilometro dai primi due corpi ritrovati, ossia quelli di Carolyn Clark e Joan Walters. Sono scomparsi nel 1989 senza lasciare traccia, almeno fino ad ora. La polizia trova diverse ossa sparse per la zona. Accanto al primo corpo, quello di Deborah, la polizia trova una catenina d'argento, un braccialetto con delle pietre semipreziose e un crucifisso d'argento. Il secondo corpo, quello di James, ha ancora un paio di scarpe da ginnastica bianche allacciate ai piedi. Anche in questo caso i due corpi vengono identificati grazie alle impronte dentali. Gli esami post-mortem rivelano che James ha le stesse ferite al midollo spinale atte a paralizzare le vittime. Ha anche due coltellate che gli perforano lo sterno e diversi tagli sulle costole. Il corpo di Deborah è in condizioni ben peggiori. Parte della mascella erotta vengono individuate diverse fratture nella parte posteriore del cranio e una profonda coltellata molto vicina a penetrarle la colonna vertebrale. Infine la polizia nota che accanto ai corpi sulla scena del crimine è stato costruito un piccolo cammino, proprio come nel primo caso. Con tali somiglianze nei corpi e nelle scene del crimine la polizia a questo punto è pronta ad ammettere che molto probabilmente hanno a che fare con un serial. La polizia per prima cosa cerca di abbinare i bossoli che hanno trovato attorno ad entrambe le scene del crimine. Quei bossoli vengono identificati come provenienti da un fucile a ripetizione Ruger. Tuttavia oltre 50.000 di questi fucili sono stati importati in Australia tra il 1964 e il 1982. In pratica è come cercare un ago in un pagliaio quindi non possono utilizzarla come informazione specifica per individuare l'assassino. L'unica cosa che gli resta da fare quindi è cercare altri corpi. Dobbiamo però anche considerare che la foresta di Belangolo è enorme. Nonostante ciò, 26 giorni dopo la scoperta degli ultimi corpi un gruppo di ricercatori si imbatte in un paio di jeans rosa da donna e un pezzo di corda blu e gialla in bella vista. Accanto a questi jeans c'è un pacchetto di proiettili calibro 22, vuoto. Trovano lattine di bibite vuote privellate da fuori di proiettile, bossoli, bottiglie di vetro vuote. C'è da dire che questa spazzatura potrebbe essere stata lasciata da qualcuno che era in campeggio o da altri escursionisti. Poi però individuano un cammino artificiale. Quel cammino assomiglia agli altri cammini ritrovate sulle ultime due scene del crimine, vicino ai corpi. Questo cammino per gli inquirenti è un indizio. Dunque cercano più attentamente e intensamente e alla fine si imbattono in un osso umano all'interno di un scarpone da trekking marrone e un teschio. Il corpo è quello di Simona Schmidl. Viene trovata con addosso gli abiti con cui era stata vista l'ultima volta, il che la rende più facile da identificare. Tuttavia il suo grande zaino e le sue attrezzature da campeggio non vengono individuate. Il corpo di Simona viene trovato ancora parzialmente vestito, con la camicia e la biancheria intima tirata su intorno al collo. Accanto al corpo vengono trovati diversi gioielli e due monete. Il petto e la schiena di Simona mostrano numerose coltellate. Ha ricevuto anche una coltellata nell'area spinale che ha reciso completamente la colonna vertebrale. Quei jeans rosa individuati dai ricercatori non appartengono a Simona ma corrispondono alla descrizione di una ragazza tedesca di nome Hania Habschitt. Lei e il suo ragazzo, Gabor Noikebawa, sono scomparsi nel dicembre del 1991. È ovvio che la ricerca debba continuare. È ormai chiaro che nella foresta siano presenti altrettanti corpi. E infatti solo due giorni dopo vengono effettivamente trovati i corpi di Hania e Gabor. I resti di Gabor vengono trovati sotto un mucchio di sterpaglia. Il corpo è parzialmente coperto da un grosso tronco e i suoi resti sono scheletrici ma ha ancora addosso i suoi vestiti. Gli hanno sparato molte volte e infatti nell'area vicina vengono ritrovati proiettili corrispondenti ai proiettili già trovati su altre scene del crimine. Il corpo di Hania viene trovato con i suoi vestiti arrotolati attorno alla spalla. Non ha addosso i jeans e a primo impatto pare non abbia nessuna ferita. Tuttavia, la sua testa e le prime due vertebre mancano. Dopo un ulteriore esame sembra che la testa di Hania sia stata staccata dal suo corpo con un macete o con una spada. Probabilmente la vittima era inginocchiata con la testa china quando è stato eseguito il taglio. Quindi, ora la polizia ha sette corpi. Sette vittime, tutte trovate all'interno della foresta di Belangolo. Hanno tutte ferite simili ma sono state uccise in modi diversi tra cui picchiate, strangolate, fucilate, accoltellate o ancora dicapitate. Si presume che molte vittime fossero anche state aggredite intimamente ma sfortunatamente tutti i corpi erano gravemente decomposti per poterlo affermare con certezza. La polizia era convinta che il colpevole avesse passato parecchio tempo con le vittime prima che morissero. Le autorità a questo punto offrono una ricompensa in contanti di 500.000 dollari per qualsiasi suggerimento che li porti all'assassino o agli assassini. Vengono emessi avvisi pubblici a tutti i viaggiatori di tenersi alla larga dalla Yume Highway e di stare attenti a ciò che li circonda. La polizia lavora instancabilmente ma ahimè non riesce ad arrivare all'identità dell'assassino. Poi il 13 dicembre del 1993 Paul, il ragazzo britannico che era stato aggredito tre anni prima in Australia conosciuto come colui che era riuscito a scappare si mette in contatto con la polizia. Paul era tornato nel Regno Unito e aveva continuato a vivere la sua vita fino a quando aveva sentito parlare dei corpi di questi viaggiatori ritrovati al telegiornale. Se ricordate Paul non solo si era salvato ma era andato alla polizia per denunciare ciò che gli era successo eppure il suo rapporto era finito in un angolino nessuno neanche se lo ricordava più ecco perché nessuno l'aveva più contattato. Ora però la polizia sta ascoltando sta prestando attenzione finalmente infatti trovano il rapporto di Paul e notano che ha rilasciato una descrizione dell'uomo che ha provato ad aggredirlo e la polizia identifica in poco tempo Ivan Milat come quell'uomo simpatico e sorridente che aveva offerto a Paul un passaggio. E in effetti questo Ivan si adatta perfettamente al profilo dell'assassino che stanno cercando vive nelle vicinanze ha una passione per le armi ha precedenti criminali e in realtà se proprio vogliamo dirla tutta la polizia aveva già ricevuto dei suggerimenti che indicavano Ivan come il colpevole degli omicidi. Alle forze dell'ordine in effetti basta osservare un po' più da vicino a Ivan così cominciano a sorvegliare la sua casa e a tenerlo d'occhio. Apprendono che Ivan ha venduto la sua Nissan Patrol poco dopo la scoperta dei primi due corpi. Inoltre scoprono che, guarda caso, Ivan si era assentato da lavoro nei giorni in cui le vittime erano scomparse. La polizia a questo punto chiede a Paul di raggiungerli in Australia e Paul riesce ad identificare Ivan Milat in tempo record. Così la polizia ottiene un mandato di perquisizione per la casa di Ivan. Arriviamo al 22 maggio del 1994 quando viene effettuata una perquisizione in diverse proprietà della famiglia Milat e ciò che trovano sbalordisce i poliziotti a dir poco. Trovano infatti diverse armi tra cui un fucile e parti di un fucile Ruger calibro 22 che corrisponde al tipo di fucile usato per gli omicidi. Tuttavia ciò che stupisce ancora di più le forze dell'ordine è il ritrovamento di vestiti, tende, sacchi a pelo macchine fotografiche e altri oggetti che appartenevano alle vittime. A casa di Ivan c'è una foto della sua ragazza che indossa un Apollo bianca e verde. Beh, a quanto pare, quell'Apolo apparteneva a Caroline una delle vittime di Ivan. Ivan quindi aveva ucciso Caroline e aveva regalato la sua maglietta alla sua fidanzata. Quanto è inquietante questa cosa ragazzi, ragazze, madonna! La polizia trova anche del nastro isolante, fascette per i cavi e una borsa piena di corde gialle e blu simili a quelle trovate su una scena del crimine. Nelle proprietà di Ivan c'è una quantità di prove assurde che lo collegano senza dubbio agli omicidi. La polizia perquisisce anche le case di altri membri della famiglia Milat dove trovano altre armi tra cui una lunga spada da cavaliere ricurva adatta alla decapitazione e altri oggetti appartenenti ai viaggiatori che sono stati uccisi. Gli inquirenti a questo punto sono sicuri di aver fatto centro quella è solo l'ultima di una serie di prove che li porta ad arrestare Ivan Milat per accusarlo dell'attacco a Paul Onions nonché dei sette omicidi. Durante l'intero processo Ivan si dichiara innocente e la maggior parte della sua famiglia lo sostiene. Non credono assolutamente che Ivan avesse potuto fare una cosa del genere anche se possedeva tutti gli effetti personali delle vittime in casa sua. I parenti di Ivan continuavano a far intendere che la polizia avesse piazzato le prove a casa di Ivan. Quegli oggetti insomma non appartenevano alle vittime. La polizia aveva fatto in modo che appartenessero alle vittime per incastrare Ivan. Direi che rimane solo una domanda. Perché la polizia avrebbe avuto un interesse ad incastrare Ivan? Cioè perché proprio Ivan? In ogni caso la cosa interessante a mio avviso è che la difesa di Ivan è arrivata al punto di suggerire che potrebbe essere stato uno dei suoi fratelli a commettere gli omicidi e a mettere le varie prove nella sua casa. Un membro della famiglia che non sostiene Ivan è suo fratello Boris. Su YouTube è possibile trovare delle interviste in cui parla di come era stato crescere con Ivan e di come il resto della sua famiglia lo avesse iniziato ad evitare perché credeva che Ivan fosse il colpevole degli omicidi. Il punto è che poco importava cosa diceva Ivan. Poco importava se si dichiarava innocente e poco importava cosa pensasse la sua famiglia. Alla fine è stato ritenuto colpevole di tutte e sette le accuse di omicidio e condannato all'ergastolo per ogni vittima. Quindi sette ergastoli. Viene anche ritenuto colpevole per il rapimento e la rapina ai danni di Paul Onions venendo condannato per ulteriori sei anni. La polizia riesce a condannarlo solo per questi sette omicidi ma credono che ne abbia commessi molti di più. Sfortunatamente non lo sapremo mai perché Ivan Milat ha portato tutti i suoi segreti con sé nella tomba. Ha trascorso tutto il resto della sua vita in prigione e il 27 ottobre del 2019 all'età di 74 anni è morto nella prigione di Long Bay in Australia per un cancro all'esofago e allo stomaco. Ha continuato a dichiararsi innocente fino all'ultimo giorno e ancora oggi molti membri della sua famiglia credono sia morto in prigione come un uomo innocente. Ma al di là della famiglia Milat la maggior parte delle persone credono che in effetti sia stata fatta giustizia. Tuttavia molti pensano che Ivan sia stato aiutato da qualcuno. Pensano che non abbia commesso quegli omicidi tutto da solo. Dunque, come abbiamo già detto Ivan non ha fatto trapelare alcuna informazione ma qualcun altro sul letto di morte ha deciso di parlare. L'avvocato difensore di Ivan, John Marksen, sta morendo. È da chiarire che John non è solo l'avvocato difensore di Ivan ma conosce tutta la famiglia Milat e anche la loro storia. Dichiara quindi che non solo Ivan gli aveva confessato di aver ucciso tutte le vittime ma anche che aveva una relazione con sua sorella Shirley. Secondo quanto riferito, sua sorella Shirley in qualche modo era coinvolta. Forse non negli omicidi ma sicuramente sapeva cosa stava succedendo. La verità è che Ivan e Shirley avevano rapporti intimi dagli anni 50. Shirley però non ha mai detto nulla ed ora non potrà più dire nulla perché è venuta a mancare nel 2003. Un'altra teoria è che il fratello di Ivan, Richard abbia assistito agli omicidi. Infatti, quando i giornali hanno annunciato di aver ritrovato i corpi di Caroline e Joan, Richard dice ci sono più corpi là fuori, non hanno ancora trovato i due tedeschi. Joan Walters, la prima vittima ritrovata, stringeva dei capelli in mano. Ovviamente quei capelli erano stati testati ma non corrispondevano a quelli di Ivan o a quelli di Joan. Sfortunatamente i campioni testati sono stati successivamente distrutti dalla polizia perché contaminati. Inoltre, c'è un'altra prova interessante. I mozziconi di sigarette e le bottiglie di alcol trovate sulle diverse scene del crimine non appartenevano ad Ivan. L'uomo davvero non fumava e non beveva più da quando sua moglie lo aveva lasciato. Un altro dubbio è il modo in cui sono stati commessi crimini o se è in modo molto diverso. Ciò suggeriva che ci fossero almeno due assassini. E poi, che dire della dichiarazione di Richard, il fratello di Ivan rispetto ai turisti tedeschi, questo caso è davvero difficile perché questa famiglia è un po' troppo brava a mantenere i segreti. Anche se penso sia abbastanza ovvio. Ivan è il colpevole. Tuttavia, non so se ha commesso questi crimini interamente da solo. Detto ciò, io ho finito di parlare in questo video. Spero che questo video possa essere stato per voi interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate. Secondo voi, Ivan ha commesso interamente tutti i crimini da solo oppure c'era qualcuno che lo aiutava? Conoscevate questo caso? Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo, io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto, prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti.